Ci occupiamo o perlomeno ripercorriamo i fatti di un avvenimento tragico che colpì davvero molto l'opinione pubblica nel 1956 a Bari e che come tutti i fatti di cronaca più tragici e cruenti a distanza di anni anche quando trascorrono e passano in maniera incessante e vorticosa a 56 anni presentano fatti e lati oscuri e da chiarire, lo verifichiamo noi nella quotidianità. Per questo un giovane autore e sceneggiatore pugliese ha ripercorso le fasi di questo fatto di cronaca ne ha fatto un libro e con lui oggi ne parliamo, si chiama Marcello Introna, lo salutiamo, grazie per essere qui Il libro si chiama Percoco perché racconta di questo fatto di cronaca che ha coinvolto la famiglia Percoco Sì, la famiglia Percoco era una famiglia benestante, medio borghese, il padre Vincenzo Percoco era un ispettore delle ferrovie quindi aveva uno stipendio più che dignitoso, insomma non era un operaio per intenderci Avevano tre figli di cui il più grande era in galera per cleptomania, il più piccolo Giulio invece Dammi il libro che io nel frattempo mostro la copertina perché il fatto interessante i nostri amici dovranno ben focalizzare per andare poi ad approfondire Quindi dicevo avevano tre figli, il più grande Vittorio era in galera perché era cleptomane e aveva accumulato una serie di condanne e quindi alla fine era stato internato Il più piccolo Giulio aveva la sindrome di Down e l'unico diciamo normale era Franco, il figlio mezzano Così tanto normale Magari il figlio su cui erano anche Convergevano le aspettative di progresso sociale della famiglia Perché la mamma di Franco Percocco che si chiamava Eresvida Martini era figlia di proprietari terrieri della provincia di Frosinone Il padre era anche un grosso avvocato e si era opposto fermamente a che sposasse Vincenzo Percocco che era un semplice ferroviere Quindi tutta l'aspettativa per l'appunto convergeva su Franco Ma Franco? Ma Franco diciamo che queste aspettative le ha deluse amaramente fino ad arrivare a un epilogo agghiacciante nel senso che Franco Percocco è il primo autore di strage familiare in Italia C'è un solo precedente degli anni venti di un tale Renzo Pettine però uccise solo la madre Invece Franco di notte uccise a coltellate padre, madre e fratello più piccolo Giulio con la sindrome di Down che peraltro la gazzetta nel mezzogiorno all'epoca definiva un povero deficiente chiaramente in riferimento al senso meramente etimologico della parola Vanta una serie di record Franco Percocco ovviamente record grotteschi è il primo stragista familiare italiano e poi nessun family murder ha mai vissuto così tanto tempo accanto alle vittime perché lui chiuse il padre nell'armadio dopo averlo piegato a metà con il bacino rivolto all'insù quindi disarticolando gli femori la madre la lasciò sul letto il fratello che invece aveva ammazzato in camera loro lo trascinò in camera dei genitori e la sigillò la sigillò con del nastro isolante e dell'ovatta imbevuto di profumo e poi continuò a vivere in questa casa di via Celentano 12 quindi nel pieno centro di Bari in cui si dette alla pazza gioia una casa degli orrori e anche quanto avvenuto assolutamente inaspettato io ho parlato di punti oscuri perché questo libro è il frutto di un suo studio attentissimo e minuzioso rispetto a questo fatto di cronaca quali sono a tutt'oggi questi punti oscuri rilevati? i punti oscuri relativi alla storia personalmente per i lavori di ricerca che ho fatto io non ho io personalmente dei punti oscuri mi risulta strano pensare che Franco Percoco in criminologia quindi parlo di testi universitari estremamente specializzati sia pressoché ignorato ci sono piccoli riferimenti eppure, ripeto, lui è il primo family murder italiano nessuno ha mai tenuto con sé le vittime per tanto tempo 12 giorni, ripeto, di feste baccanali, prostitute a pagamento lui si è dato alla pazza gioia dopodiché, chiaramente, l'odore ha avuto la meglio, è scappato ed è stato poi arrestato ad Ischia un altro record negativo è un altro aspetto oscuro è relativo al fatto che la Gazzetta quando pubblicò la confessione di Percoco resa al commissario di Gato di Napoli il 10 giugno del 56 venne sequestrata su scala nazionale l'andarono a riprendere addirittura casa per casa dagli abbonati perché non si poteva scrivere? perché aveva diffuso materiale raccapricciante che aveva contribuito a reiterare lo stato di terrore in cui si verteva in città due persone rischiarono un linciaggio perché vennero scambiate per lui e questo è un provvedimento che non aveva precedenti e non ha avuto seguiti e la legge sulla stampa è oggi quella del 48 la stessa identica quindi insomma uno si fa una serie di domande certo, questo è giusto anche porsele ed è importante che questo libro solleciti anche a questo tipo di riflessioni assolutamente come lo definirebbe questo libro? è un giallo? no, in realtà io in origine pensavo di scrivere un romanzo liberamente ispirato alla storia di Franco Percoco poi nel momento in cui ho ottenuto l'accesso agli atti e quindi ho studiato le 2200 pagine del processo insieme alla dottoressa De Robertis che è una criminologa ho scoperto che non c'era la necessità di inventarsi nulla nel senso che a 26 anni Percoco la ciliegina sulla torta della sua torta è stato il triplice omicidio l'oppultamento e il vilipendio di cadavere ma in realtà lui ha passato 26 anni a fare scemenze diciamo così per non utilizzare termini più coloriti tutte lui ha fatte nel senso era un accanitissimo però non diciamo non svegliamo tutto perché altrimenti credo che insomma il fatto di parlare di questo libro sia anche importante per i baresi non solo per i baresi ma anche per i pugliesi per riappropriarsi di un percorso storico che ovviamente viene spesso ignorato è una pagina ovviamente orripilante molto triste però che vanta ahimè una serie di record Franco Percoco è per come la vedo io era l'embrione di quello che oggi è considerato il baresi medio in senso ovviamente dispregiativo cioè è Tarantini è la D'Addario la storia si ripete sì con la differenza che non hanno più il beneficio della novità a loro io vi segnalo questo libro che tra l'altro sarà presentato questo pomeriggio nella libreria Feltrinelli alle 18 e 30 nella libreria Feltrinelli di Bari grazie per essere stato qui grazie a voi tantissimo e in bocca al lupo grazie